Amici di YouTube, ben trovati da Marco Ligueri. In questo video parliamo di un terremoto dell'ultimo minuto. C'è tanta preoccupazione in tutta la penisola per i tanti sciami sismici che stanno colpendo l'Italia. E prima di saperne di più vi ricordo che a 200 like pubblicherò immediatamente un nuovo video. Nel mese di febbraio 2024 abbiamo parlato spesso e volentieri di terremoti e eventi sismici che hanno colpito l'Italia. Segnaliamo la paura in provincia di Salerno, nella fattispecie a Ricigliano, per le tante e continue scosse di terremoto. E nelle ultime ore preoccupa la situazione a Langhinano, in provincia di Parma, già diverse scosse nei giorni scorsi. Nelle ultime ore, a partire dalle 19.07 di oggi, 19 febbraio, segnaliamo altre cinque scosse di terremoto, di cui la più potente di magnitudo 3,2. Fortunatamente non registriamo danni a persone o cose, tuttavia impazza la paura in questi giorni. L'attività sismica Langhirano, in provincia di Parma, appare essere piuttosto continuata. Il secondo lei Marco Liguori monitorerà quello che sta accadendo a Parma e in generale. Vi aggiornerà su tutti gli eventi sismici, sia in Italia che nel mondo, amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti!